Musica 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 Andare a scuola e stare dalla mattina alla sera con il telefonino, fare messaggio su siti che non sono legali, è normale vivere vicino alle macchinette di videogiochi dall'età oppure autorizzare i bambini a giocare i video poker, è normale allora questa è una questione di cultura non è una questione che il cittadino è un delingue a prescite, noi dobbiamo invertire la lotta, solo così possiamo offrire alle futura, alla futura generazione dei politici migliori, io vi invito non solo a fare pulire e riempire tutte le sedi pubblici, ma a farlo nello spirito della legalità perché si può creare consenso soprattutto quando il favore è generalizzato e non diventa un voto di scampio grazie a tutti Buongiorno, buongiorno a tutti per introdurre i lavori però fare prima un grande saluto alla dirigente scolastica grazie naturalmente ringraziamo tutti gli intervenuti ma mi rivolgo ai miei ragazzi perché alla fine sono loro che devono accogliere, arrivare fino in fondo a queste riflessioni la nostra scuola è un sito tecnico economico e un professionale perché non ce l'ha funzionato ma come spesso succede agli studi tecnici e economici c'è un percorso di approfondimento di attenzione verso i problemi che riguardano gli aspetti giuridico ma economici e con una particolare attenzione allo studio del diritto quindi abbiamo spesso affrontato queste tematiche nelle varie sfaccettature perché l'aspetto della legalità è un aspetto plurimo complesso che va guardato in tante sfaccettature e in tanti modi diversi tutti quanti è importante che portino a una riflessione e l'incontro degli studenti con le istituzioni sia quelle della magistratura oggi abbiamo il giudice di Milano abbiamo avuto interlocuto l'anno scorso con il giudice Cantone ci sono stati vari momenti di incontro con la magistratura e anche con le corse dell'ordine proprio perché la legalità a tanti aspetti sono estremamente complessi e il rispetto di regole e di più voi lo sapete ragazzi c'è la cultura della legalità e quella non è solo raccontata è interiorizzata ed è fatta propria dopodiché non c'è modo di sbagliare e allora io vi auguro di ascoltare con attenzione e con grande concentrazione l'incontro di questa giornata di fare proprie fate le vostre queste riflessioni magari saranno anche utili spunti per i ragazzi del quinto anno che dovranno affrontare le prove della maturità potrebbe essere un aspetto da affrontare alla prova scritta della maturità o al colloquio orale ma soprattutto deve essere una guida per la vostra vita grazie è una realtà che noi consideriamo speciale un po' lontana dalle logiche legate alla criminalità organizzata e in qualche modo è fortunata tra virgolette la zona l'aria della provincia di Caserta insomma noi che lo guardiamo da una visione completamente distaccata quindi dal punto di vista giornalistico però da mesi settimane stiamo scrivendo ad esempio che anche nel gestire una città che sembra essere un'isola felice è difficile anche le cose più basilari non vengono fornite alla città per esempio la mancanza di visore ecologiche noi stiamo scrivendo da mesi questa carenza la questione degli incontranti che vengono lasciati ai margini delle colline qui a piedi monte e poi detto francamente io questo appunto lo volevo fare i ragazzi forse non lo sanno ma qualche giorno fa il sindaco due giorni fa il sindaco si è dimesso tramite facebook pare che non abbia neanche diciamo protocollato ancora le divisioni questo dà un po' il intenso diciamo così delle circostanze insomma di cui andiamo a parlare ora in che modo però la tantina gestione della cosa pubblica può sfociare poi nella illegalità questa è una domanda che volevo fare al dottor Sirignano e in che modo le mafie poi entrano in questo circuito dico questo perché le mafie si insegnano in un percorso dove lo stato non c'è io ho fatto un esame all'università che si chiamava storia della questione meridionale e i meridionalisti giustino fortunato o altri meridionalisti parlavano delle mafie della camorra come un antistato cioè dove lo stato non forniva i servizi la camorra li forniva proprio l'altro giorno parlando di un sequestro un sequestro a un imprenditore di un caccia estruzzo il caccia estruzzo è quel materiale con cui poi si fa il cemento un pentito racconta una storia che succede un fatto che succede all'interno di questo caccia estruzzo ed è parla di un sindacalista della filea CGL il quale negli anni 90 va dai lavoratori all'interno di questo caccia estruzzo e chiede di fare uno sciopero perché non vengono trattati bene non vengono pagati questo sindacalista viene avvicinato da un camorra che sta la torre insomma un dragone il quale dice tu facendo il sindacalista puoi dilungare i tempi di questa sommossa dei lavoratori parlo io con il capo della caccia estruzzo non ti preoccupare in mezza giornata faccio pagare i tuoi lavoratori ecco questo è l'antistato cioè fornire un servizio immediato lì dove in effetti i tempi diciamo così normali di un'amministrazione o di una vertenza invece sono lunghissimi e quindi tutti grazie per il tempo io ho accolto immediatamente con grande piacere per chi come ha detto il consigliere pronunciare mi lega a questo territorio un ricordo che ho detto veramente giovanissimo 5-6 anni dai 5 ai 9 anni 10 anni in ultimo mese sono stato qui allora il tema è sicuramente interessante è stato detto che questa zona è una zona felice dal punto di vista criminale in relazione chiaramente ai fenomeni mafiosi fenomeni che noi conosciamo nel territorio di Caserta o nei grandi casatesi che erano l'edizia dei Quaccaroni oppure dei Marciani Sani del Flore dove ci sono le principali organizzazioni che controllavano e controllano tuttora il territorio anche se qui vicino nella zona di Caiapso ad esempio vi era una presenza degli schiavone abbastanza importante la famiglia del vecchio che aveva un po' anche le mani su questo territorio però sono passati fortunatamente degli anni sono fatto molto credo che in questo momento non posso essere non posso mai fare affermazioni in senso assolutissimo ma dunque credo che sia obiettivamente un uomo a si felice da questo punto di vista come la cattiva gestione di un'amministrazione può in qualche modo agevolare invece di formarsi di tentazioni mafiose no? di propaggini di organizzazioni mafiose di altri territori che sono in altri territori anche in quelli che sono passati felici è certo che può accadere può accadere perché l'emergenza ad esempio è accaduto anche a Napoli ma è un'emergenza che purtroppo caratterizza molti dei settori della vita l'emergenza di frutti ad esempio fa sì che lo Stato incapace di risolvere il problema abbassi il livello di controllo per affrontare l'emergenza e quindi si favorisce ovviamente senza volerlo direttamente l'ingresso di formazioni mafiose attraverso imprese che non sono direttamente riconoscibili alla mafia ma che sono mafiose perché sono derivazione della mafia perché in quel modo si riesce adottare un meccanismo dove non è più la libera concorrenza non è più l'appalto pubblico controllato ma è una regola di trattativa diretta che favorisce chiaramente poi l'ingresso di alcune società quando il servizio viene gestito dalle società mafiose chiaramente il tessuto di quel territorio viene inquinato e viene inquinato e l'inquinamento è un inquinamento che poi in qualche modo continua non finisce perché basta entrare una volta entrato in un sistema amministrativo poi si cerca di conquistare anche altro e quindi si inserisce nelle menze nella parte diciamo che vi riguarda di più perché tutte le menze per esempio nel territorio di Caserta erano tutte diciamo a pannaggio della mafia casalese Giovine era quello che gestiva tutte le menze sia a livello provinciale che a livello comunale della sanità tutte le menze degli ospedali quindi vedete come poi piano piano la mafia entra e viene a bussare la vostra porta perché perché il discorso sulle mafie quindi estendo il discorso lotta alle mafie non significa soltanto lotta chi spara non significa soltanto contrastare un crimine che mette in pericolo la vita o il benessere significa contrastare tutte quelle manifestazioni di prepotenza tutte quelle manifestazioni di arroganza del potere che in qualche modo non è gestito o finalizzato ad accrescere il benessere collettivo ma è finalizzato ad accrescere il benessere individuale ad accrescere il potere fino a se stesso che è utilizzato poi nei rapporti con gli altri quindi anche con la parte pubblica in modo da sovraffarlo da dettare le regole da gestire le risorse pubbliche in un modo piuttosto che in un altro da indirizzarle quindi verso persone che sono direttamente riconducibili a se stesse in modo da avere un ritorno che o è di consenso ma non è mai solo di consenso o è economico allora tutto questo mi fa capire che lottare il fenomeno mafioso non significa soltanto arrestare le persone ma significa combattere la prepotenza e quindi è qualcosa che non è di esclusiva pertinenza delle polizie della registratura ma è qualcosa che investe la vita di tutti e quindi la responsabilità di tutti della scuola della famiglia vostra io tutte le volte che vado nelle scuole cerco di evitare di caricare di responsabilità i giovani perché voi non c'entrate niente in tutta questa storia cioè voi dovete soltanto cogliere l'opportunità che vi offrono nelle scuole per acquisire la necessaria condizione e consapevolezza e poter poi decidere cosa fare decidere chi mente e chi dice la verità chi è bravo e chi è cattivo chi vi offre un percorso politico solo perché vi in qualche modo attrae in una spirale che poi vi sembra quella giusta ma in realtà è ingiusta perché è una spirale che potrebbe determinarvi a non essere più voi stessi a ragionare con la testa di qualcun altro questo è accaduto molto spesso nelle regioni del meridione perché nelle regioni del meridione purtroppo ed è questo che poi caratterizza la mafia del meridione e ritorno anche all'argomento stato-antistato la cultura è sicuramente più bassa delle regioni del nord Italia ci sono grandissime professionalità grandissime potenzialità perché noi siamo costretti a vivere in circostanze di difficoltà oggettive anche per andare a scuola o per avere una scuola funzionante dal grado di impegno dei professori ci sono scuole dove piove dentro dove non ci sono i riscaldamenti dove non ci sono le palestre non ci sono campi sportivi allora è obiettivamente più difficile crescere una società così può crescere e allora la ignoranza la cultura dello stato assente per cui l'antistato non è antistato ma è lo stato perché almeno ti offre qualcosa perché puoi ragionare a chi sta male fare un ragionamento devi avere rispetto delle regole e poi però nel rispetto delle regole vedi che va chiesto rispetto a quello che invece le regole non le rispetta e che mentre chi non le rispetta vive nel benessere e tu invece arranchi tutto il giorno perché nessuno ti offre quella possibilità quella giusta possibilità di vivere e di crescere come dovrebbe essere riconosciuto a tutti e allora cominci a pensare ma lo stato qual è? quello che mi dà un lavoro o quello che me lo nega? quello che mi dà la possibilità di risolvere una questione in breve tempo o quella che addirittura mi vede soccombere ingiustamente perché passano 30 anni prima che mi viene riconosciuto un diritto è lì che si insinuano le mafie perché come ha detto giustamente il merito quando una persona si rende conto che rivolgersi alla giustizia significa quasi sempre non avere giustizia perché anche il tempo che trascorre dall'istanza di giustizia alla definizione significa già ingiustizia e allora nel frattempo la tua vita deve andare avanti non puoi aspettare la giustizia devi non puoi allora o non ti rivolgi più al giudice e diciamo questo già è grave oppure ti rivolgi a chi la questione la risolve subito ma come la risolve? la risolve perché è in grado di tacitare le ibeglioni o comunque anche le inerzie in modo prepotente in modo capotistico e quando interviene un latorre del tipo latorre potrebbe essere santo potrebbe essere bidognetti o altri non ci sta la sentenza devi fare così stop ferimento peraltro che viene è stato seto ma c'era un altro di sindacalista di cui ho parlato ieri alla presentazione del libro all'altro casalese Federico del Preto che è stato assassinato non lo ricordo nel 2004 nel 2002 non me lo ricordo ma comunque perché svolgeva il suo lavoro di protesta e di denuncia nei confronti di un sistema che purtroppo era illegale ed è stato ucciso barbaramente da una persona condannata che poi ha collaborato Antonio Corvino e i cui complici non sono stati ancora accertati per mancanza di risconti che lui li ha indicati ora quindi voglio dire ovviamente quello che vi ho detto non significa che quella parte di antistato sia positiva perché risolve i problemi vi sto dicendo il perché poi lo Stato di fronte a queste manifestazioni di arroganza di prevaricazione deve fare di più perché altrimenti perde perché in una cittadina come Casavesina o come San Cipriano dove le persone ricevono regali a Natale a Pasqua a Ferragosto perché il capoglanno alla vecchietta davano 50 euro al soggetto che non aveva la possibilità di mangiare ma davano il cesto con la pasta preso da un'auto che lo vendeva ovviamente senza pagare 40 cesti di Natale senza pagare però poi si faceva il consenso attraverso il dono ma che lo riceveva diceva guarda un po' c'è chi bussa la mia porta solo per chiedere e chi invece mi porta il cesto ma voi pensate ma allora siamo in un territorio dove c'è Robin Hood e no e però questo bisogna capire per capire che questo è il male e non è il bene perché quello che dà viene da un'altra parte dove viene sottratto e la presenza mafiosa ha fatto sì che quei comuni vengano ricordati in tutto il mondo perché sono mafiosi non perché ci sono professionalità non perché si sa fare il rigiolaro che mette bene le mattonelle o l'impresa e lille perché mette bene fai bene i palazzi o che si lavora bene in un settore l'artigianato che è in grande difficoltà oppure ancora perché la porsalera è più buona di tutto il mondo ma siamo ricordati come territori di mafia qui nel territorio dell'abrogigia e allora come si fa a capire che però quello è antistato nel senso negativo della parola e lo Stato invece deve essere quello che deve controllare regolamentare che deve in qualche modo aiutare che deve anche chiedere deve essere credibile attraverso la scuola la famiglia è per questo che noi dedichiamo sempre più tempo anche noi magistrati che non siamo assolutamente erori che possiamo sbagliare con tutti quanti gli altri che meritiamo le punizioni quando sono giuste quando sono ingiuste bisogna lottare per non avere la punizione questo però si deve fare qui qui dentro quindi voi in questo rapporto con i magistrati con i giornalisti con tutti i rappresentanti delle istituzioni che vi parlano di legalità dovete sapentrarle solo un argomento importante da portare a casa vostra e da far in qualche modo ragionare anche i vostri genitori ossia che soltanto attraverso la conoscenza la cultura attraverso il ragionamento il confronto sempre leale ma franco confronto significa che devi rispettare le opinioni degli altri devi formarti una tua opinione ma devi essere anche pronto ad accettare che la tua sia sbagliata soltanto quando voi capite che nel confronto con la conoscenza si arriva ad un punto diciamo di cultura che vi consentirà di crescere soltanto in quel momento avete raggiunto il risultato che prima non avete ragione e quindi sarà più facile sia per lo Stato che si manifesta per chiedere il bordo sia per l'antistato che vi inganna dandovi qualcosa ma per fare ricchezza propria e quindi essere forte attraverso il vostro consenso vi renderete conto soltanto in quel momento che avete gli strumenti per poter combattere le mali perché le mali si combattono con la cultura non con l'annesto con il sequestro perché sono cose diverse sono cose che intervengono quando il male si è già verificato il reato si è già commesso ma il male ci sarà sempre se voi non capite che l'unica responsabilità che avete è di quella vi faccio carico sicuramente di rispettare gli altri di studiare per conoscere e di fare in modo che chi non lo vuole fare viene recuperato per far capire che solo con questa strada si può fare in modo che la nostra società cambia il bene tutte le altre strade sono tutte le altre strade fasulle scorciatoie che non servono a nulla e che faranno in qualche modo fare passi indietro a questo paese e non passi davanti grazie per esempio una cosa che mi dà perché le nuove generazioni non leggono più i giornali non si informano per esempio lo sapete che cosa comporta per esempio lo scioglimento del consiglio comunale nella vostra città può succedere che arrivano con vista a creare altre tutte le tasse quindi i vostri genitori pagheranno delle alicote elettissime questo è uno dei rischi per esempio che può succedere però alla vostra età insomma dovreste informarvi per per sapere queste cose e infatti la funzione del giornalista qual è? quella di dare voce a chi non ha voce che è un principio di libertà è un principio di democrazia vi faccio un esempio in primavera per esempio stavano prescaldi dei finanziamenti per una terapia molto importante per i bambini autistici che era la terapia ABA e quindi alcune mamme si erano organizzate via social per fare in modo che questo non accadesse che fosse prorogato questo servizio e si erano dati appuntamento davanti all'asta di casetta i giornalisti che cosa hanno fatto non hanno fatto altro che dare voce a queste madri che si sono unite insieme a quelle di tutta la provincia e hanno fatto in modo che questa terapia potesse poi continuare infatti è ancora in atto e questo è un principio diciamo fondamentale che ha dato la libertà a questi ragazzi di svolgere delle terapie e di tutto gratuito con il servizio dell'altro e l'informazione quindi è una base io vi invoglio in qualche modo a leggere che cosa accade nei vostri territori a informarvi non a solo se non siete abituati con i cartacei anche con le informazioni che ci sono sui siti online perché attraverso soltanto se siete informati potete cambiare le cose voi stessi potete fare voi stessi potete fare informazioni attraverso i social se vedete una strada una strada rotta qualcosa che non va una palestra non funzionale all'interno della vostra scuola mettetelo sui social taggate il sindaco taggate la regione voi stessi potete fare informazione non è soltanto una prerogativa dei giornalisti avete un potere di social di web un potere in mezzo a tutti utilizziamola nella maniera intelligente ed è appena passata anche la settimana del cyberbullismo cyberbullismo in realtà c'è la polizia però che con con U-Paul può fare in modo che i ragazzi denunciino o in qualche modo diano un input per iniziare un'indagine su ad esempio su uno spaccio di droga che avviene all'interno dell'istituto oppure in piazza oppure denunciare eventi di cyberbullismo o di bullismo comune quanto viene utilizzato il U-Paul dei ragazzi i ragazzi lo sanno che c'è questa possibilità di denunciare via web anche in maniera anonima se non mi sbaglio su U-Paul lo sapete lo sapete che esiste U-Paul no ve lo spiego per quanto riguarda l'applicativo U-Paul questo è stato un applicativo pensato dalla Polizia di Stato per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti di fenomeni di bullismo tale applicazione ha avuto e sta avendo una rispondenza positiva per quanto riguarda poiché è un applicativo che consente la geolocalizzazione delle chiamate e consente di intervenire in tempo reale perché viviamo tutti in era digitale e quindi anche per i più giovani c'è la possibilità di interagire con l'ufficio di Polizia l'ufficio della Polizia di Stato più vicino a tutto il territorio per contrastare questi fenomeni che sono importanti perché consentono un intervento in diretta in tempo proprio decisamente reale quindi vi invito a denunciare perché il crimine gli atti delituosi non sono solamente quelli che vediamo nella vita di tutti i giorni ma sono anche il web che è il mondo meno imbrigliabile Lei da adolescente ha ragionemente di fare il magistrato e perché? no sappiate una cosa che non c'è niente che non si faccia con i sacrifici cioè non è possibile conquistare qualcosa nella vita senza sacrifici e non parlo del sacrificio che ho fatto pensando di fare il magistrato e non il notario perché nessuno dice che ce l'avrei fatta però invece parlo dei sacrifici che si devono fare perché tutto quello che si ha si deve meritare non è possibile sottrarlo ad altri non è possibile raggiungere obiettivi attraverso scorciatoie oppure non rispettando le regole vedete oggi ho vinto molti ragazzi che si accontentano di queste lauree che si fanno nelle scuole online mi hanno anche chiesto di fare delle lezioni sui video in personale mezz'ora pagate stra pagate non le ho fatte più perché mi sono sembrate qualcosa di per me non accettabile ma poi che cosa siete cioè uno pure se riesce a diventare qualcuno perché il sistema ti porta con le raccomandazioni i pagamenti le truffe le trucchette ecc ma voi vai quando andate a casa e dite ma io chi sono cosa ho fatto nella mia vita per essere quello che sono se avete studiato se avete meditato dormite bene se avete invece raggiunto obiettivi attraverso trucchetti oppure attraverso scorciatoi o pagando addirittura quello che gli altri invece sudano per ottenere secondo me non state bene anche se la società purtroppo vi porta a guardarvi per quello che avete piuttosto per quello che siete ma c'è un momento in cui voi vi dovete confrontare per forza con voi stessi e quando vi confronterete se avete fatto del bene che avete raggiunto con sacrificio voi vi senterete alti altissimi come le persone che hanno perso la vita per denunciarvi vi ritorno solo su questo argomento un secondo perché ieri sono stato molto colpito ho presentato questo libro ad altro casalese che parla della vita di Nimmo Novi e l'ho ucciso da Setola e da altre persone nel 2008 maggio 2008 c'erano le due figlie lì che quando parlavo dopo 12 anni piangevano vedevo che uscivano le lacrime come lacrime sono che prendono gli occhi le lacrime perché si ricordava una persona che ha come borsellino con le due diverse però chiaramente esperienze storie ecc camminava per strada sapendo di essere ucciso perché si era opposto ad una potenza mafiosa di quel periodo sia nel 2001 quando aveva denunciato e aveva fatto arrestare gli estorsi sia nel 2008 quando imperversava Setola con il suo comando di fuoco che era un comando terroristico di cui aveva paura la cuore non ha gestato che se ci avesse incontrato l'estratore ci avrebbe sparato e lo ha dichiarato così come ha sparato degli inerti c'è il soggetto in soggetto africano che stavano in una sattoria così per parlare anche loro Novillo era una persona che ha semplicemente detto no alla capota stato uscito assacrato ma lui sapeva ha parlato con le figlie voi pensate ieri mi immedesimavo l'ho fatto già quando rincorrevo per le strade per l'indaggi di Setola insomma pensate questa scelta del padre che chiama le figlie e la moglie dice che dite io per conservare la mia dignità di uomo voglio dire no però sappiate che forse quello che vi lascerò è solo la mia eredità morale perché la mia persona è imperale la famiglia le figlie voi pensate pensate a questa cosa a casa vostra viene vostro padre e vi dice questo voi non vi sentite state facendo una scelta così forte così coraggiosa è una scelta di dignità queste scelte fanno grandi i uomini non le scelte di potere le scelte di potere sono la cosa più brutta che esiste quando il potere chiudo così viene raggiunto ed esercitato solo come fine a se stesso e non per migliorare la vita della gente significa che siamo poveri uomini e non persone vi faccio un esempio l'altro giorno abbiamo scritto ho scritto in particolare sono andata a Mondragone per una richiesta su una discarica perché ovviamente quando ci si avvicina sempre alla questione di dirgli c'è sempre da scavare la trovi sempre la notizia lì e un amico un dancio che mi aveva portato su questa discarica mi ha detto guarda qui su un social su Instagram c'era un profilo aperto che si chiamava Welcome to Mondragone dove c'erano dei video che postavano che ritraevano delle persone disabili prese il paese così incontrate il paese o prese in giro per esempio mentre andavano sulla bicicletta e pubblicate su Instagram ovviamente senza il consenso delle persone ritratte delle persone che non si potevano dipendere e pubblicate e aveva dei seguaci molto alti 600 seguaci questa pagina Welcome to Mondragone abbiamo denunciato questa cosa con un con un articolo di giornale un articolo che abbiamo messo sia sul giornale Cattaccio il mattino ma anche sul web questa cosa l'ha vista l'ha letta il garante dei disabili e ovviamente ha chiesto subito a Instagram la carcettazione di questo profilo le persone che sono tuttora sconosciute che avevano pubblicato questi video le hanno innanzitutto messo in privato il profilo c'è ancora se andate a vederlo c'è ancora però hanno eliminato tutti i video come si fa per arginare questo fenomeno e soprattutto come si fa a capire ai giovani che non può essere postato senza consenso un video ragazzi c'è una legge che si chiama un revenge porn che prevede che se dei contenuti vengono postati in maniera non consensuale sui social e sono lesivi della personalità si può finire addirittura in carcere senza parlare dell'ammenda della multa che si va a pagare quindi come si può fare per prevenire invece questo tipo di fenomeno io ho avuto l'occasione di scrivere alcuni articoli sui social network che mi hanno riguardato per quanto riguarda la mia attività professionale posso dire che il web è il mondo meno impregnabile non pensiate che diciamo che i social network e l'internet il mondo di internet sia un'immensa frateria dove ognuno può fare quello che può secondo alcune recenti sentenze facebook instagram tutti i siti più più diffusi sono una ora virtuale cioè una immensa piazza immateriale cioè significa quello che dico su internet è come se lo stessimo dicendo in quest'aula quindi di fatto sono luoghi aperti al pubblico dove vincolo delle regole di condotta dove ci sono ci sono delle regole da osservare che vanno contemperati sicuramente con il diritto di manifestazione del pensiero che però va ecco diciamo abbiamo il fenomeno degli odiatori in rete di quelle persone che pubblicano come diceva la giornalista musto immagini di persone senza autorizzazione ebbene ciò non è consentito non è consentito ai sensi del codice dell'amministrazione digitale pubblicare postare video e foto di persone di cui non si è avuto il consenso diciamo che oggi abbiamo una nuova legge che è la legge del cyberbullismo che è stata approvata nel 2017 oltre a un recente credo legge del 2019 che riguarda i punti di sicurezza cibernetica cioè stiamo attuando in Italia perché è diventato evidente che c'è un problema stiamo attuando delle reti di sicurezza cibernetica la famiglia vi deve dare i primi i rudimenti ma anche la scuola i nostri insegnanti io ricordo con grande passione i miei insegnanti del liceo che mi hanno mi hanno formato quindi sappiate fare frutto di queste situazioni sappiate diciamo capire che il vostro comportamento anche su web anche sui social network non è internet non è il far west no non è il far west bisogna di regole condivise di regole da rispettare ed è un compito che dovete dovete necessariamente svolgere se volete crescere non ci sono sporciatoie credetemi ok grazie io ho detto che il premier ha detto che ci sono 100 miliardi spammati in 10 anni per il nuovo piano per il sud per fare in modo che il sud diciamo così si riprenda in qualche modo il sud Italia il sud però è anche la zona dove i ragazzi dopo il liceo dopo le superiori vanno via o vanno a studiare altrove o semplicemente se ne vanno per lavorare altrove se Piedimonte rientra in questa realtà in cui i ragazzi vanno via per esempio quanti di voi dopo il diploma vogliono andare via a lavorare o a studiare fuori di Piedimonte o della Campania tantissimi tantissimi così si svuota ovviamente il territorio allora ci capita tante volte di chiacchierare vogliamo mandare via vogliamo vedere altri posti e io come vi dico sempre la voglia di andare di guardare di confrontarci è bella ci sta è giusto però poi che succede poi l'obiettivo però è portare ricchezza da dove siamo partiti noi abbiamo bisogno non solo dei giovani che portano che ci portano e ci danno indicazioni che ci portano forza lavoro che ci portano speranze idee sorrisi di giovani noi abbiamo bisogno anche di giovani mamme e di giovani papà perché noi non abbiamo più bambini allora questo gruppo di ragazzi qui l'anno sforzo ha fatto un'esperienza di alternanza lavoro all'estero internazionale e quindi siete stati abbiamo partecipato a una piena e abbiamo creato una nostra azienda che si chiamava Itmadese che praticamente valorizzava i prodotti del nostro territorio il cibo il cibo siete stati sulla rambla si e dove è dove la troviamo questo Itpiedimonte la troviamo su internet cioè l'avete creato e poi si abbiamo fatto un sito però non credo che ora si possa accedere più perché è scaduto dove stanno i ragazzi che hanno lavorato a Malta forse oggi sono fuori anche voi avete lavorato a Malta chi vuole parlare un attimo di Malta allora nel mese di settembre ottobre abbiamo partecipato all'esperienza di Malta nella durata di un mese e sono stati scelti i quindici all'unità le quattro e le quinte e lì abbiamo avuto esperienze lavorative ognuno di noi lavorava in aziende o hotel diversi e lavoravamo dalla mattina fino al pomeriggio e appunto facciamo proprio un tirocinio per il proprio ma per l'inglese sì tutto un tirocinio un mese tutto un tirocinio